Caro sindaco Ti scrivo Ti scrivo per dirti che Ciao, siamo di nuovo impegnati con il bilancio del Comune di Roma. Questa volta però vorremmo fare qualcosa di diverso. Siamo infatti stanchi di parlare ai banchi vuoti per dire che cosa non va, come se fossero solo le nostre impressioni. Stavolta vogliamo dare la voce a te, vogliamo farti parlare in Aula Giulio Cesare. Per questo abbiamo aperto una casella di posta che si chiama carosindaco at romacinquestelle.org Scrivi lì un messaggio breve, 20 righe, nessun insulto, noi leggeremo il tuo messaggio in Aula. Ciao a tutti, dopo la delibera svendipatrimonio è partita la discussione in Aula sul bilancio previsionale 2015. Questi giorni abbiamo visto una maggioranza totalmente assente, ovviamente torneranno in Aula quando si tratterà di votare pedisseguamente. quindi lunedì quando faremo i nostri interventi, piuttosto che dire tutto quello che non va di questo bilancio, il fatto che si sono venduti gli immobili, il fatto che le tasse sono sempre più alte, quindi ci sono 300 milioni di mancate entrate perché i cittadini non ce la fanno più a pagarle. Il fatto che anche su questo bilancio le tasse vengono aumentate, piuttosto che fare questo, quindi questo lo contrasteremo facendo una battaglia in Aula a colpi di 3.000 emendamenti, lunedì quando parleremo in Aula, quando faremo i nostri interventi, noi saremo la tua voce, noi leggeremo le lettere che voi cittadini manderete al Sindaco Marino, quindi mandateci le vostre lettere, ovviamente contenetevi, siate educati, però noi daremo lettura delle vostre lettere e saremo la vostra voce. Quindi vi aspettiamo lunedì 9, dalle ore 14 alle ore 18, Aula Giudiciosa. Ciao! Caro Sindaco Ti scrivo Ti scrivo per dirti che Per dirti che Per dirti che Per dirti che Grazie.